Io vorrei cominciare dalle ultime parole che ha pronunciato il Direttore del Dipartimento, il Dottor Porta. Questo è un primo passo. A me sembra una conclusione veramente perfetta, perché ci ritroviamo di fronte a un piano che è stato riscritto dopo ben 11 anni. Quello precedente è stato emanato da un commissario straordinario ed è stato fatto un lavoro molto approfondito con una ricerca delle informazioni su tutte le problematiche che ci sono nella città. È ovvio che non può essere un lavoro definitivo, è un lavoro che d'inizio si ricomincia a creare una cultura di protezione civile. Questo è l'aspetto più importante che questa amministrazione vuole dare. Io vorrei anche ricordare che in quest'Aula noi abbiamo approvato una mozione nella quale impegnavamo la Sindaca e la Giunta a realizzare il nuovo piano generale di emergenza di protezione civile. Stare in quest'Aula e dire di aver raggiunto un obiettivo è una cosa che fa piacere, è una cosa che ovviamente ci gratifica ed è un momento importante per noi questo passaggio in quest'Aula. Per cui io vorrei proprio esprimere un ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato a questo piano perché oggettivamente è un lavoro corposo, un lavoro molto importante e che è apprezzato. Poi io anticipo che ho presentato anche un ordine del giorno nella quale diamo delle indicazioni su come sviluppare il lavoro futuro per cui che poi discuteremo. Però possiamo dire che questo è assolutamente un buon inizio e io vorrei proprio sottolineare come questo deve essere la base di uno sviluppo della cultura, della protezione civile nella città di Roma Capitale. Dobbiamo lavorare su questi aspetti, dobbiamo lavorare a diffondere questa cultura tra la cittadinanza, nelle scuole in modo tale che si prepari le persone a quegli eventi perché la storia dell'Italia che ha una storia molto corposa nella protezione civile, è importante che ha fatto scuola anche a livello mondiale, ci dice che prepararsi, studiare gli eventi e far sì che ci possa essere una risposta adeguata, essere pronti a dare una risposta adeguata è il modo migliore per cercare di affrontare tutte quante le criticità. Non ce lo neghiamo, è un lavoro enorme quello che è stato fatto e quello che dovremo fare, però questo è un buon inizio per cui grazie e ovviamente ci sarà il voto favorevole della maggioranza a questo piano. Grazie.